17 aprile 2021 ancora una volta sto davanti al gas barry di via del calice noto con piacere che il contenitore di batterie scariche è stato svuotato è ancora rotto ma almeno le batterie sono state portate via e quindi ora è possibile inserire altre batterie senza problemi si direbbe che la mia segnalazione è stata utile non so quanto ci metteranno a riparare questo contenitore comunque è stato fatto un passo avanti poi vabbè in largo cosoleto c'è sta un contenitore di carta che è pieno e qua vedo un'altra cosa vedo un contenitore giallo pieno cosa contiene plastica e metalli ai 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 non va bene vorrei riprendere il contenitore di carta di largo cosoleto per farvelo vedere un altro giorno per ora chiudo qua grazie per l'attenzione